Prima squadra dall'ST Bassano al Gran Completo in gran spolvero. Ieri la presentazione degli assi assieme ai soci del club e le premiazioni dei vincitori del torneo bassanese. La rosa di campioni che arrivano tutti dal vivaio della società giallorossa sono impegnati in queste settimane nel campionato italiano di A1. È motivo di orgoglio grosso per me, Marco Fioravanzo e Tommaso, mio fratello, perché siamo penso una delle poche squadre in Italia a poter giocare in campionato di A1 con tutti i ragazzi del nostro vivaio. Cioè o cresciuti all'interno della nostra scuola o che si allenano attualmente là e non è cosa da poco. Tre partite di campionato già giocate, un pareggio lui sconfitte, arrivati al Giro di Boa, gli assi bassanesi devono fare di tutto per la salvezza nelle prossime tre gare. Noi schiereremo lo straniero perché è un momento in cui dobbiamo cercare di arrivare terzi prima di affrontare il play-out. Quindi quella è la partita in cui noi cerchiamo di portare a casa i punti per arrivare terzi nel campionato. Poi andremo a giocare a Crema e a Roma che sulla carta sono due partite abbastanza chiuse. Però noi puntiamo la partita del primo novembre, anzi aspettiamo la gente numerosa al tennis. Lo straniero in forza è Giallorossi e Igor Sisling, 160 al mondo. Una partita già giocata l'anno scorso con l'ST Bassano a Roma e domani si gioca in casa sui campi di Via Colfa-Gheron contro il Maglie.